Spongebob! Perché riesci sempre a mandare a monte i miei piani? Plankton? Stai tentando di rubare la ricetta dei Krabby Patty? Ecco, veramente? Io non... D'accordo, va bene. Mi hai scoperto. Adesso sei contento? Sai, questo incontro mi ricorda quella volta in cui Mr. Krab mi ha confidato la ricetta dei Krabby Patty. Tu? Beh, ma non voglio annoiarti con queste vecchie storie. No, non preoccuparti. Non mi stai assolutamente annoiando. Molto bene. Mr. Krab mi aveva chiamato in ufficio. Spongebob, è un po' di tempo che lavori al Krusty Krab e quindi adesso mi posso fidare di te. È il momento che ti avevo annunciato. Ah! Lainton! Esatto. Proprio la formula del mitico Krabby Patty. Seguimi, ragazzo. Dobbiamo andare dove nessuno ci possa sentire. Sì. 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 Era ora. Finalmente ci siamo. Presto nel mio ufficio, prima che qualcuno ci metta. Davvero? Avete fatto tutte quelle fatiche soltanto per tornare al Krusty Krab? Per essere sicuri di non essere seguiti, poi Mr. Krab si china verso di me e mi sussurro alla ricetta. Sì. Sì, forza. Vai avanti. E non dimenticarlo. Nessun essere vivente dovrà mai conoscere questa formula. Aspetta! Aspetta un momento! Che succede? La mia penna non scrive più. Sì, va bene, prosegui. Pranto! Tu non avrai mai la formula del Krabby Patty nemmeno in un flashback. Non sono riuscito a fare soldi in tutto il giorno. Io non ho mai trovato qualcuno che mi invidiasse. Stamattina non sono riuscito a fare il mio gionellino! Ragazzi, non possiamo rinunciare. Ci siamo messi assieme in questo pasticcio e ne usciremo allo stesso modo. In un congelatore? No, usando i nostri cervelli. Tu sai trovare la via d'uscita da questo posto? Ma certo! No, useremo una testa d'ariete. Oh! Va bene. Erano le prove. Adesso siete pronti? Ok. Si parte! Fantastico, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Ora la formula del Krabby Patty è mia! Ci sono voluti infiniti anni, ma ce l'ho fatta! Oh, no! Oh! No! Avete ordinato dei Krabby! Oh, oh, oh! Oh, bravissimo! La regente del Krabby Patty. Come è fatto ad arrivare qui? Oh, oh! Avrai dovuto saperlo, Planton! Oh, che sorpresa, Krab. Felice ennesimo anniversario. È arrivato il momento del lancio. Per favore, Crabbe, no. Questa volta non posso sopportarlo. Non lanciarmi più, ti prego. Sì, d'accordo, va bene. Visto che sono di buon umore, per una volta ti accontento. A posto. Buon atterraggio, Plankton. Sapete, non è poi così male. Tutti sembrano delle formiche, se riguardi da quest'altezza. Un momento. Aiuto.